Bella a tutti ragazze e bevono di cosa annoio Oggi giocheremo a Brawl Stars ma non normale a Brawl Stars Giocheremo a quello moddato Vi farò vedere un po' di strategia con i brawler Già sono tutti i brawler Già sono giolato Ho fatto la skin E mi lavoravo tutti Ci vediamo alla partita La prima partita La prima con Crrrrrrrrrrrr Ragazzi vi dico che sul mio primo Il mio Osset Il mio video Per la mia 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 E' un po' di più, e' un po' di più. io non abbiamo giuntato e mi sono caricato l'impasto ragazzi, io ho giocato perciò ma mentre io devo fare un microne noi andremo a giocare con lei io non ho raffazzano questa è la notte ragazzi vi faccio vedere una strategia i nemici stanno prendendo tutte le gel 甚麼 la notte e i i i i i i Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.